Ue bamboli Pasto di Anna Prod Young Miles Reaction, già mi conoscete Vai mio fammi sentire questa tag Eccola Ma il ritornello è una hit Raga bellissimo Per tutta la vita Voglio fare la trap Come i bambini i problemi li eviti Fino a che non li eviti Prova al prossimo anno Mi dai fastidio quando dici bando Questa frase è stato un sbaglio L'aveva detta nel 64 di Red Bull Ok va benissimo Allora con lo zampino di Mio Mi aspettavo tipo qualcosa di veramente cattivissimo Invece no C'è stato un Miles diverso Più tranquillo Tipo di Space Trip E ci sta ripreso quel mood Del beat part ovviamente E Anna non me l'aspettavo Molto figa Tanta roba grande Anna Mi è piaciuto Mi è piaciuto particolarmente Hai fatto qualcosa di diverso Non più su quel sound In cui sei abituato a cantare Ecco Hai voluto fare questa svolta Un po' più personale Più tranquillo Ci sta ma ci sta una cifra Fantastico Bravi tutti e due Di un cazzo Ditemi qui sotto se a voi è piaciuta ragazzi A me particolarmente tanto E voglio anche un pezzo molto cattivo Da parte vostra E nulla ragazzuoli Per questo video è tutto Lasciate like Commentino Fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate Bello Ciao Ciao